Sembra incredibile, invece è successo veramente, Gwendalina Tavassi ha organizzato una festa a tema Pamela Prati per sua figlia, ecco le foto sì, è tutto vero. Sembra incredibile, invece è successo veramente, Gwendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello e tale e quale show e oggi opinionista nei salotti televisivi, per festeggiare i sei anni di sua figlia Chloe, ha organizzato una festa a tema Pamela Prati. Ma non è finita qui, ecco cos'altro è successo. Compleanno a tema Pamela Prati La piccola Chloe, figlia della spumeggiante Gwendalina Tavassi, ha un idolo, Pamela Prati. Per il suo sesto compleanno, quindi, la sua mamma ha deciso di farle realizzare il suo sogno e così ha organizzato una festa a tema. La Prati non solo è stata protagonista dei vari allestimenti, ma ha preso parte all'evento in qualità di ospite d'onore. Nella sala c'erano un trono rosa con la scritta, Pamela Prati, un tabellone a forma di cuore con le foto della showgirl sessantenne e un angolo dedicato al make-up. Inutile dire che l'emozione della bambina è stata tanta, non solo per le decorazioni a tema, ma anche e soprattutto per aver potuto abbracciare il suo idolo, la Prati, appunto. Ecco le foto dell'evento. Ecco le foto dell'evento. Ecco le foto dell'evento. Ecco le foto dell'evento. Ecco le foto dell'evento.